Ben tornato in questo meraviglioso nuovissimo bellissimo video Mi raccomando ragazzi mi piace lasciate la vita Prima di iniziare questo meraviglioso bellissimissimo Sono già morto Però ho gli underpair ragazzi Dicilo Prima di iniziare questo video Dovete iscrivervi al canale Lasciare la re E attivare quella Campanella Ora posso iniziare Devo raggiungere Oh Sì ragazzi Perché dice che lui ha avvistato qualcosa Ecco la stessa Cosa vuoi? Ho avvistato Te l'avevo detto di non tornarlo all'orecchio Comunque se faccio il video Sì Allora ragazzi Gli ho già detto Vieni veloce Arriva arriva Di calma Che succede? Sono Quegli stupidi Strucetti Sì esatto Comunque cosa hai visto questa volta? Ho visto Una scena che ballava Ma non è che uccido Un telisfermo Sì esatto Comunque io sto arrivando Ah E attento a non beccare le trappole false Ah Prendi questo Che cos'è? E' un poggia perle Un poggia che? Un poggia under perle Praticamente si serve per appoggiare l'under perle là Così quando Ti uccidono E ti trasporto Va bene Fammi E una volta fatto E una volta fatto Oh Cerca di sopravvivere Va bene E cerca di arrivare da me Quello lo farò sicuramente Ciao So Adonio Ragazzi Sembra quello Il tizio di Final Fantasy Aspetta Benvenuto di giocare a Final Fantasy Però ragazzi Non ho tempo Perché il signorino Appoggiamo un'altra parola Il signorino dice di aver avvi stato una scena che bella Vabbè Chi è mo? Pam pam Cosa vuoi? Eh Avete visto? Cine so La scena che bella La vissavamo? Mi fammelo chiamare? A quello? Aaaaa Ah Ok Eh 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 Cosa? Pam pam dice che con la scimmia che hai visto tu No Non c'è n'altra cosa Vabbè Un'altra appoggia perle Ecco Dicevo Cine saci Chi? Eh Cine saci Ecco io se Cine saci Quello che dobbiamo ricercare Perché lui Credo che sia il cugino di Newton Perfetto E allora vieni che lo rincorriamo Oh Ah mi ha rubato il telefono Vieni subito dai Arrivo Ah prendi questo Che cos'è? È un rallentatore Wow Che figo Ah Aiuto No Maledizione Che figo 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 no wow ecco no no nooo nooo non slurgo potrebbe essere il giro Wow, credo che questa è la fabrica dell'isluo, la fabrica dell'isluo, la fabrica dell'isluo, la fabrica dell'isluo e moderca. Ma come passa? no maledizione comunque io ho avuto un'idea prima distruggiamo tutto andiamo da fuori no no maledizione perfetto oh merda che diavolo oh no la mia macchinina si oh no oh merda vieni qua maledetto stronzetto aiuto questa scemmi maledetta mi sta rapendo lo vedo cerco di raggiungere anche se non è facile guidare la macchina nel tanto tempo no 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 si scivola si scivola si scivola si scivola oggi vieni qui oh mai aiuto ti prenderò povera io solo ti porto e vieni qui no 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 di nuovo questa caverna merda brutto macaco del cavolo sono caduto stavolta 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 non mi fermerai no ma perché non muori perché non oh si 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 oh no no oh oh merda arrivo ahah no 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 ah 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 maledizione oh 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 em oh oh ragazzi oddio cosa è successo noi ci vediamo nel prossimo episodio volete vedrete il video vabbè iscrivetevi al canale lasciate like e ah dove dove l'avevo le mie sulla campanellina Noi ci vediamo e ci becchiamo nel prossimo video Ma sta arrivando Papà ma eccoti